Ehi amici, Fisher-Price ha creato per noi la prima radio con microfono per diventare dei veri disjoggeri, per cantare con la musica, per ballare i ritmi più nuovi. Radio Fisher-Price con microfono, tre modi per divertire. Ehi Fisher-Price ci regala subito una compilation baby record e possiamo vincere questa fantastica Grizzly Malaguti.